probabilmente se non ci fosse stato lui il ladro l'avrebbe fatta franca fuggendo con tutta l'area furtiva invece si è lanciato al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo sino all'arrivo delle forze dell'ordine un gesto coraggioso quello compiuto da un cittadino nigeriano di 32 anni residenti a bari in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno e grazie a lui se i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di monopoli sono riusciti ad arrestare un 24enne georgiano che poco prima aveva rubato merce all'interno di un supermercato ad accorgersi delle cattive intenzioni del giovane straniero è stata una cassiera dell'esercizio commerciale dove nelle ultime settimane si erano verificati diversi furti il ragazzo girava per il negozio con aria distratta poi al momento opportuno entrava in azione prendendo generi alimentari dagli scaffali e nascondendoli in un grosso zaino la dipendente ha subito allertato i militari ma prima del loro arrivo il ladro è riuscito a raggiungere l'uscita dandosi alla fuga non aveva fatto i conti però con il 32enne nigeriano che come ogni giorno stazionava all'esterno del supermercato allarmato dalle urla della cassiera l'uomo ha rincorso il ladro riuscendo a bloccarlo sino all'intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato dopo una breve colluttazione all'interno dello zaino del georgiano i militari hanno rinvenuto merce di vario tipo del valore di circa 150 euro il giovane privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora è stato trasferito in carcere con l'accusa di rapina impropria